L'Africa Milele, l'ONLUS a cui appartiene Silvia Romano, la volontaria italiana di 23 anni rapita in Kenya, è una piccola associazione di volontariato, poco conosciuta anche a Fano, dove ci sono altre organizzazioni dello stesso tipo ma più strutturate. Fondata nel 2012 da Lilian Sora, l'attività di Africa Milele, che in lingua shwaili significa Africa per sempre, nel piccolo villaggio di Kamaki, a circa 70 km di Malindi, dove è avvenuto il rapimento, è dedicata a progetti per l'infanzia. Non ci sono parole per commentare quello che sta accadendo, Silvia siamo tutti con te, Africa Milele, ONLUS. Questa è la scritta che appare sulla home page del sito dell'ONLUS fanese, sito web che dal pomeriggio di oggi però risulta inaccessibile. Operiamo in quella zona da oltre cinque anni su diversi progetti, si tratta di un'area tranquilla, dove non è mai successo niente del genere, avrebbe dichiarato agli organi di stampa una sconvolta Lilian Sora, commentando l'accaduto. Inoltre le attività della piccola ONLUS si svolgono sia in Kenya che in Italia, come si legge dal profilo social dell'Africa Milele. In Italia le attività consistono nell'organizzare eventi di intrattenimento rivolte a bambini delle città con l'idea di mettere in evidenza le diversità come risorsa e non come problema. In Kenya invece l'intervento è mirato all'accoglienza, al supporto e all'educazione di tutti quei bambini emarginati dalla società perché orfani. Con la possibilità di avere una casa, un pasto, dei vestiti e un'istruzione, vorremmo, dicono dalla ONLUS, riconsegnare un futuro a coloro che sembrano non averne più. La speranza, affermano dalla ONLUS, è inoltre quella di renderci superflui all'interno della comunità del villaggio dove è situato il nostro primo progetto, lasciando l'attività autonoma nelle mani degli abitanti del luogo. Questo servirà a dare una valida alternativa alle megalopoli africane che costituiscono uno dei luoghi di maggiore problematicità in tutto il continente. Ma il senso del lavoro dell'Africa Milele si comprende nel loro claim che recita. Dando si riceve. Se la tua mano si svuota per gli altri, la tua bocca sarà sempre piena.